Il 1982 è senza dubbio un anno molto importante per la storia dei rally. I motivi sono molteplici. I vecchi gruppi 1, 2, 3 e 4, rappresentati a cavallo tra gli anni 70 e 80 da gloriose vetture quali la Lancia Stratos, la Fiat 131 Abarth, la Renault Alpine, la Porsche Carrera e altri ancora, spariscono definitivamente dal panorama rallystico, lasciando il posto ai nuovi gruppi N, A e B. Il gruppo B, massima categoria delle corse su strada, che dava la possibilità di produrre pochi esemplari da porre sul mercato, ma imponeva una ristretta elaborazione dei mezzi da competizione rispetto a quelli di serie. In poche parole, la vettura che si poteva ammirare lungo le prove speciali non differiva, se non in piccoli particolari, da quella acquistata nel concessionario. Per questo motivo, la Lancia Rally 037 in versione da gara è identica a quella stradale. Da un punto di vista estetico, non vi sono differenze sostanziali. La carrozzeria, disegnata magistralmente da pininfarina, si differenzia soltanto per la composizione e per alcuni piccoli particolari. La vetroresina, materiale robusto ma considerato troppo pesante, viene sostituito con del Kevlar, portiere comprese, in modo tale da rendere la vettura decisamente più leggera. Il dunotto posteriore viene realizzato in plexiglass trasparente, così come i finestrini dotati di una piccola finestrella scorrevole per la reazione dell'abitacolo. Anche gli specchietti retrovisori vengono sostituiti con due più piccoli, modello Californian. Per finire, sulla parte frontale, vengono eliminati i fari fendinebbia, sostituiti da una fanaliera a quattro proiettori, riportata sul cofano anteriore, così come le luci posteriori, di forma rettangolare, rimpiazzate da due piccoli indicatori di forma circolare. Il 1983 è l'anno della consacrazione definitiva. La neonata Lanciarelli 037, dopo il rodaggio durato mezza stagione 1982, infila una serie impressionante di risultati positivi. In ogni rally, in ogni campionato e su ogni tipo di fondo, tant'è che al termine della stagione agonistica, grazie anche a piloti del calibro di Walter Röll, Mark Wallen e Mickey Biasion, sarà prima nel campionato del mondo, in quello europeo e in quello italiano. nata per vincere. Bastano davvero poche parole per delineare il profilo della Lanciarelli 037. Motore posteriore centrale, sovralimentazione mediante compressore volumetrico e oltre 300 cavalli di potenza, sono gli ingredienti principali che compongono questa fantastica vettura, unica nel suo genere e dalla tecnica molto raffinata. Osservandola nei dettagli, anche nei più piccoli, possiamo stabilire in che modo riesca ad interpretare il regolamento del gruppo B. Entrando nell'abitacolo, decisamente stretto, subito si ha la sensazione di trovarsi più che in un'auto da rally in una vettura da pista. La visibilità anteriore, come sulla vettura stradale, è buona, mentre quella posteriore praticamente inesistente. I sedili in modello Sparco sono molto avvolgenti e permettono al pilota di restare immobile quando la vettura è sottoposta a forti accelerazioni laterali. Il volante, diversamente dalla versione stradale, è a calice. Questo per consentire una guida ravvicinata. La strumentazione è davvero essenziale. Al centro del cruscotto si trova il contagiri e una serie di spie per indicare eventuali anomalie agli impianti. Sulla parte centrale, invece, leggermente in basso, vi sono gli indicatori della carica della batteria e del carburante. Una serie di fusibili per finire trova posto sulla parte superiore centrale del cruscotto, oltre ad alcuni pulsanti per la ventola del radiatore, l'impianto di estinzione, i fari, l'avviamento e l'iniezione ad acqua. La Lancia 037 pesa circa 960 kg contro il 1170 della sorella stradale. Chiaramente per essere competitivi in un rally non è sufficiente una macchina leggera, ma occorre avere tutti quegli accorgimenti all'assetto, al motore e al telaio, modificati appositamente per un utilizzo più esasperato. I cerchioni di serie, ad esempio, vengono sostituiti con quattro in magnesio di diverso disegno e misura. I pneumatici 210-595-15 sull'anteriore e 265-40-16 sul posteriore assicurano quindi un grip maggiore, considerato che le strade dei rally spesso sono vicide ed insidiose. L'assetto punto di forza della 037 viene rivisto sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Anteriormente troviamo due ammortizzatori a gas tipo Bilstein, non regolabili, montati su snodi metallici Uniball e dotati di molle elicoidali a flessibilità variabile, mentre posteriormente un analogo schema ma con due ammortizzatori per ruota paralleli tra loro e con lo stelo rovesciato. Una soluzione tecnica, rivelatasi poi vincente nei rally, è quella di avere la possibilità di diversi punti di alloggiamento dei bracci oscillanti. Questa finezza permette una serie variabili di regolazioni delle geometrie delle ruote, consentendo alla vettura una variazione di assetto in poco tempo. Anche l'impianto frenante viene radicalmente modificato. I dischi autoventilanti di serie vengono sostituiti con quattro analoghi ma di tipo scomponibile con pinze Brembo a quattro pompanti sull'anteriore e due sul posteriore. Il circuito del freno a mano inoltre viene sdoppiato e dotato di doppia pompa separata. Questo per avere la possibilità di far girare la macchina nei tornanti stretti. Per ottimizzare al meglio la frenata, infine, un particolare sistema di servofreno a due canali viene utilizzato in modo tale da garantire frenate potenti e precise, anche in situazione di precaria aderenza. Il motore dotato di compressore volumetrico è l'anima e il cuore della Lancia 037. All'inizio della stagione 1983, dopo un anno di rodaggio, nuove sostanziali modifiche sono state fatte al gruppo propulsore e precisamente allo schema di aspirazione e di alimentazione. La cilindrata di 1995 CC rimane invariata, ma la valvola di regolazione comandata dall'acceleratore e il collettore di aspirazione vengono riesaminate. Ora la Lancia 037 arriva ad avere 300-310 cavalli a 8.000 giri al minuto, con una coppia massima di 30,5 KGM a 5.000 giri al minuto. L'ultima evoluzione della 037 raggiunse livelli di potenza molto elevati. Alcuni esemplari toccarono i 350 cavalli con una coppia massima di 33 KGM. La Lancia 037, così configurata, è in grado di spingersi fino ad oltre i 175 KM orari con un'accelerazione bruciante che la porta a 100 KM orari in poco meno di 6 secondi. Questo, grazie anche al cambio a 5 rapporti, dotato di innesti frontali ravvicinati, con quello finale sostituibile per ottenere velocità massime diverse in funzione del tipo di percorso. Il differenziale autobloccante, infine, per agonistico era tratto diversamente rispetto a quello di serie e portato ad un incremento della soglia di lavoro percentuale pari al 40-70%. Al termine della stagione 1985, la 037 termina ufficialmente la carriera agonistica e con essa il suo sviluppo. E siamo ai giorni nostri. Nel 2010, la FIA concede l'omologazione della vettura per correre nei rally storici europei. KISPORT, da varie stagioni, porta avanti la gestione della mitica Lancia Stratos HF, nella realtà rally storici a livello internazionale e dal 2010, appunto, segue lo sviluppo del rientro nei rally FIA delle vetture gruppo B, in particolar modo nella Lancia Rally 037. Sono cinque le vetture preparate che partecipano con nomi illustri del rally internazionale, tutto sempre in collaborazione con il team Rally Club Sandro Munari. Sì, il lavoro fatto è perché comunque c'è questo progetto che la FIA porta avanti e che KISPORT, diciamo che è la squadra più vicino a noi, sta realizzando. Loro ci credono molto, noi ovviamente li supportiamo perché sono equipaggi che corrono per noi. L'azienda KISPORT nasce nel 2004, nasce da un incontro qualche anno prima, poco tempo prima con una persona che poi diventò un grande amico, nonché pilota e nonché grande collezionista di macchine, Marco Bianchini. Nasce questa amicizia, questo rapporto di comune passione e da lì nasce comunque la necessità di creare un'aziendina per poi soddisfare, chiamiamo così, soddisfare delle esigenze agonistiche e delle esigenze di perfezionamento di prodotto e parallelamente nasce da volontà e serve a soddisfare le esigenze di far correre la Lancia Stratos. Lui amanti della Lancia Stratos, noi amanti del mondo Lancia e quindi da lì nasce nel febbraio 2004 la KISPORT. Molto velocemente Lancia Stratos, campionato europeo 2005-2006 eccetera eccetera, quindi poi chiaramente da due persone sono diventate tre, poi quattro, poi cinque persone, qual è adesso l'organico dell'aziendina KISPORT dove continuiamo a portare avanti macchine di clienti, macchine di proprietà, corsi di clienti e corsi di proprietà. Ci divertiamo cercando di portare avanti il marchio Lancia e le macchine italiane con il massimo della professionalità e serietà e amicizie e passioni con quello che sono soprattutto clienti ma parallelamente sono più amici con il quale c'è comunque un rapporto molto così molto umano e molto gioviale quando si va in giro per il mondo, per l'Europa, per l'Italia. La realtà 037 viene un po' di conseguenza volendo sempre andare avanti con quello che è l'ambizione di passione ma anche così voglia di non fermarsi mai. La FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile probabilmente loro in primus avendo così la volontà di far crescere il mondo delle auto storiche, dei rally storici, del campionato europeo, sapendo e conoscendoci, sapendo che noi portiamo avanti come protocolore del marchio italiano Lancia, di conseguenza Fiat ma comunque Lancia come Lancia Stratos, siamo stati contattati. Nel settembre 2009 si è riadunata qui in K-Sport una piccola delegazione di una decina di tecnici FIA con le quali noi abbiamo messo a disposizione soprattutto le macchine. Quindi una era una macchina dell'epoca montata completamente, una era una scocca completamente nuda, chiaramente sempre dell'epoca, con la loro esperienza, con l'esperienza di un grande amico che si chiama Rino Buschiazzo che in quella sede lì portò alla loro conoscenza quello che era l'aspetto di non sicurezza, se la possiamo definire così, di quell'epoca. Quell'epoca si parla dell'84-85, quindi quando le macchine del gruppo B correvano perché erano macchine moderne. Poi insieme noi abbiamo contribuito progettando un parolone ma cercando di mettere insieme la necessità loro che era l'aspetto di maggiore sicurezza per la riammissione del gruppo B che ora si chiama periodo J1. La sicurezza è stato quello che è stato rimesso in chiave moderna, quindi rivalutando tutto quello che è la centina centrale, quindi roll bar, rivisto in chiave moderna. Chiave moderna, quindi roll bar saldato, la croce sopra nel tetto, la croce di dietro che protegge i piloti, le diagonali laterali come barre anti-intrusione e altri piccoli dettagli. Ovviamente la 037 non è come una macchina in chiave moderna che ha molto spazio all'interno come abitabilità, quindi è per questo che loro hanno avuto la necessità di venire giù e mettendo insieme varie teste come esperienze e mettendo noi come K-Sport a disposizione la scocca nuda, si è fatto varie prove con sedili, che tipo di sedile mettere, che tipo di abitabilità vi era all'interno con un sedile moderno e con le orecchie laterali per poter poi usare il collare Hans e queste piccole evoluzioni hanno poi portato al progetto finale, il progetto finale è stato omologato dalla FIA perché rispecchiava tutti quelli che erano i crismi di sicurezza e di abitabilità che loro richiedevano e da lì nasce la 037 periodo J1 come gruppo B, quindi riomologate le vetture di gruppo B dall'83 all'85 dove è stato assolutamente mantenuto invariato tutto quello che è l'aspetto tecnico, che la macchina era già eccezionale dall'epoca grazie all'ingegnere Limone, quindi chiaramente non si è come tutte le macchine di auto storiche e regolarmente lo vedono, non si può assolutamente intervenire su quello che sono gli attacchi sospensioni, motori, volante a sgancio rapido per poter far sì che il pilota nel caso di incidente possa uscire in maniera veloce e in piano di istinzione, anche questo in chiave moderna, quindi con la parte fissa e la parte invece brandeggiabile che a tutt'oggi nelle gare nazionali di campione italiano non è necessario, basta un piano di istinzione omologato ma brandeggiabile. Rimane invariato se non quello che il regolamento permette di fare, quindi delle piccole migliorie ma non assolutamente migliorie che toccano aspetti elettronici o aspetti di chiave strutturale moderna perché uno può migliorare per quello che è la tecnologia di materiali, sotto l'aspetto del motore soprattutto, i pistoni o altre cose, questo è normale ma dal punto di vista strutturale assolutamente come regolamento è vietato e quindi non si può toccare niente, si può restaurare, si può revisionare ma non si può assolutamente variare quello che sono gli aspetti motore, cambio, elettronico, elettrico perché all'epoca l'elettronica non esisteva ancora ma soprattutto quello che sono attacchi sospensioni, attacchi dello chassis, supporti particolari assolutamente sono vietati il regolamento e quindi non si può intervenire su questo aspetto e anche la 037 mantiene quello che è il criterio originale dell'epoca. Noi ci siamo dovuti ricostruire un po', ci stiamo ricostruendo tutto con le nostre forze specialmente, adesso cito solo l'aspetto delle resine esterne che chiaramente noi abbiamo rifatto gli stampi di proprietà e quindi sulla base di carrozze originali dell'epoca funzionanti e funzionali e quindi siamo in grado di ricostruire e di supportare noi stessi o eventuali clienti con materiali uguali all'epoca e perfettamente intercambiabili. Come si diceva prima, settembre 2009 è ripartito il progetto La Filosofia e sono state messe in calendario dalla FIA nel 2010 tre eventi, tre eventi che sono stati il Regno del Corallo che era una gara mista terra-asfalto, il rally di Ud, anzi no, il Corallo l'anno scorso fu due tappi terra, il rally di Alpi Orientali a Udine e il rally Costa Brava, le ultime due su asfalto entrambe. Quindi nel 2011 tutte le gare del campionato europeo, le macchine di gruppo B, periodo J1, quindi compreso 037 e Audi eccetera, sono state ammesse nella sua totalità. Quindi si è partito quest'anno dal rally di Sanremo per poi toccare l'Acropoli, per poi sarà Belgio, Ipre eccetera eccetera, Ipre in Belgio e altri, Finlandia e altri. Quest'anno è un anno, chiamiamolo, di transizione, non da un punto di vista regolamentare quanto solo da un punto di vista puramente di campionato, perché le macchine saranno in, sono e saranno in classifica, ma i fini del punteggio del campionato europeo non sono inserite, per poi invece essere inserite nel 2012 che come quest'anno faranno e in futuro faranno tutto il campionato e prenderanno punti, quindi oltre a essere in classifica, quindi a vincere la Coppa, diciamo così, saranno anche in classifica per quello che è il criterio del campionato europeo, per prendere punti per il campionato europeo e partecipare all'affermazione, al titolo eccetera.